Devo dire solo due parole di ringraziamento, però prima una piccola storia. Comincio con una parabola, la bigio un po', c'è miseria ragazzi. Allora, mia madre si chiamava Ger, vuol dire mare. Mio padre si chiamava Marina, no Ger vuol dire terra, scusate, e Marina vuol dire mare. Avevamo pensato di darmi un nome quando sono nato, cielo. Ma chiamandomi cielo era sette giorni che pioveva. Hanno dovuto cambiare il nome. E mi ha messo Giuseppe che dall'ebraico di Rionse, che vuol dire delegato, Dio, aggiunto Dio. Io sono contento oggi che Dio mi ha aggiunto Dio. Ma un particolare ringrazio lo voglio dare ai miei parenti, ai miei angeli custodi ragazzi. Se mi hanno conservato così fino a 80 anni, molti miei genitori, c'è un motivo. E ringrazio Alessandra Salimbeni, Cinco Tornelli. Mi sono emozionato, è un attimo eh. Dall'Aurena e Cinco Praia. A questa equip Sogia Sanitaria. Devo aggiungere il mio medico parano, dott. Leavattiti e pensare. Grazie dottore. un particolare ringraziamento dovevo fare i miei assistenti nell'ospedale ho avuto Sergio, Iatici, la Giorgia Vang, la Giuliana, Nicco la cugina Laura, Oscar i dottori Iateani, la Mirka, Gabriele Bentoni, ma non tantissimi, Tonio che mi hanno comportato aiutato e assistito nel mio periodo di licenza e grazie a loro sono qua più forti che mai io ho finito con queste parole per non mangiare, pur fra i matti intervalli però mi dico come si trova di una giornata io ho ingaggiato un personaggio dello sport in particolare della musica dell'editoria, dei giornali è Campani Michele, un applauso a Campani che gentilmente è venuto di cuore l'altro applauso lo devo fare al nostro maestro Marco Zanelli un applauso bravo ragazzi un applauso di arrivare la Morena se la fa minuti poi un applauso a voi altri ma avremo tempo di parlarne più dopo adesso vi lascio mangiare, parlare la musica, niente musica quando si mangia e mi sento il dovere di citarle sono amici nostri Baristrassi Stella Zanelli Giulia Manfredi Fabio il nostro portierone ragno un applauso a questi qua adesso vi lascio Michele Campani è già finito? no, per riposarli perché ho 80 anni vuoi chiamare avanti? vai avanti allora in sala abbiamo tanti amici, tanti personaggi avete visto che in qualche tavolo l'azelinta che è un po' la regista di questa festa ha messo nei cartelli in uno c'è gli angels abbiamo una sala ricca di personaggi di amici personaggi amici io vi cito velocemente poi lascio la parola per una bella poesia a Campani Michele che ha scritto il nostro carizzo domenica qui in prima fila allora abbiamo Zanni Mario palladino del calcio di Felina direttantistico del montagna Tamburini Eros la Pallavolo con Gigi Bertolini professore a Felina per anni e anni e anni la colonna era lui Zanni Giuliano è stato il primo allenatore ufficiale a vincere il torneo della montagna e dal 1993 Felina L'Eguino vi do i testimoni Gli altri sei giorni in campo Cironi in campo l'applauso ragazzi Del Rio in campo Rossi Vita Migliari Massimo e Tincani questo è ricordioso Felina anni 93 purtroppo abbiamo anche dei raccini di lusso Bertasolo e Stefano con la ginnastica donne 25 anni a Felina ragazzi è tanta roba Attolini Claudio Caccio che ha inaugurato la prima scuola calcio della Felinese nel 86 Bortoni Gianni professore Cervarezza Calcio Volli Tamburini Mavro che portiamo un saluto come non è potuto venire poi abbiamo un altro c'è un altro personaggio un altro amico che è sempre Felina è Tincani Giorgio il nostro speaker degli anni 70 poi dopo anche e di chi ho sempre presente un altro personaggio che è la nostra mente del comitato è quello che ci dà il suggerimento ironico intelligente è un ingegnere viene da Brescia ditemi il nome Ciro Ciro Cacinagri ecco Arnas ecco Arnas poi faccio non per ultimo ma un applauso anche a dei personaggi che hanno dato tanto la montagna dico montagna non ho gli altri io parlo di Ciro Montezzi quando consiglio siamo partiti con il 1982 con la montagna a fare le trasmissioni abbiamo trovato l'appoggio di teatricolore che stanno i partireni il direttore sono in sala abbiamo trovato l'appoggio della Morena complimenti a Morena che ieri nella Cagliari a Odia un applauso anche per la Leggiana e in serie B io questi nomi ho dovuto farli perché mi sentivo in debito ma anche con voi altri l'altro debito lo paga adesso il nostro amico Campani con una canzone quella che vuole lui e con una poesia l'ha fatto il nostro carissimo amico da pochi anni per lì ma per me è un perinese adottato non dico chi è perché sta piangendo avanti vai grazie per avermi invitato alla tua festa e grazie ancora che mi dai sempre dei buoni consigli e tante grazie che mi saluti sempre anche due o tre volte al giorno il saluto non è non costa niente maestro Biggio sei molto conosciuto tutti ti salutano gente di tutta l'età noi ti vediamo sempre agli eventi sportivi nei quali fai il cronista con la tua bella voce sonora e anche a Teletricolore dove ti seguiamo sempre in 80 anni di vita si fanno cose buone e anche sbagliate io però ho chiesto la tua biografia sei stato un buon cittadino quello che tutti dovremmo fare adesso aggiungo una frase umoristica un amico mi ha raccontato che da giovane andavi a donne insieme a lui e andavate anche all'estero scusate pubblicità ma alla fine hai preferito sposare una signora che si chiama Juventus la signora Juventus la rispetti e non la contraddici mai e così ti sei divertito e ti diverti ancora caro Braia Giuseppe detto Biggio noi tutti vorremmo esserci al tuo novantesimo compleanno mettiamo le mani avanti sarebbe bellissimo tuttavia la tua persona la tua personalità e il nome Biggio rimarranno per decenni nel cuore della montagna e della città del tricolore Biggio ti auguriamo una lunga vita in salute e che Dio ti benedica chiamato Rivi Rosanna e Sara e il marchio delle Juventus che dopo riconoscerete faremo un ricordino per modo di dire abbiamo un altro personaggio due personaggi di Sara un personaggio che non ha già quattro calci un personaggio che non è molto sportivo un personaggio che pesa i fatti suoni educato saluta è un penile di giudocco è un amico per tutti vi ricorda una volta aveva un negozio alimentare ve lo ricordate sì o no? sì una domanda che vi faccio aveva una bianchina faceva di tutto portava i fornimenti portava i palloni portava il vino eh taci il negozio alimentare si chiamava Incerti ma io vi dico il motivo perché l'abbiamo citato perché in certi liceo il petto di calcio non si intendeva ma i panini che faceva per la squadra le cose che ci dava i piaceri che ci dava erano anni 70 in cui non c'erano soldi non c'erano maglie c'era il campo sportivo parrocchiare e grazie a con Zanni e la parrocchia eravamo liceo che era sempre con i giovani liceo aveva un conversco con lui mi sembra che sia presente sì e Zanni Giuseppe i panini che faceva Giuseppe liceo gli diceva di farli sostanziosi costavano 50 lire c'era più salame che pane se Beppe vuoi dire qualcosa Beppe c'è Beppe se vuoi dire qualche ricordo niente non l'hai sei emozionato vedo che mi stai piangendo va bene ti capisco sapete che avete visto che in Sanchez c'è un tavolo uno con scritto i baschi vi spiego il perché i baschi il popolo basco l'altro c'è scritto gli angeli allora negli anni 70 gli storici del calcio mi dicono che in Argentina c'erano tre fuori classe Grillo no no perché parlavo di liceo scusate c'era maschio Sivori e anche Lillo in Argentina anni 70 60 a Pelina abbiamo i tre angeli tre fratelli come ci sono gli impatti abbiamo i tre angeli che non i tre Manfredini Manfredini Celso alzati grazie Celso Manfredini Mello Guerrino eccoli qua eccoli qua ragazzi purtroppo manca Tiziano che ha letto dalla firma ci portiamo da lui ma come tanti altri che sono senti oggi questi sono i nostri tre angeli di Carina io direi che a questo punto lascio la voce a Michele e i baschi i baschi lo dicevo dopo va bene va bene va bene basco ok proprio basco l'Atletico Madrid sapete che aveva tutti i giocatori baschi Ferino ha avuto per un periodo di tempo tutti i giocatori ferinesi prettamente ferinesi l'Atletico Bilbao l'Atletico Bilbao l'Atletico Bilbao l'Atletico Bilbao l'Atletico Bilbao è vero avevamo solo i ferinesi Marvoldi Vittorio che ha vinto il Montagna nel 93 Chiesi Bedini Chico io voto al Pacino Ciglioni Massimo Ciglioni Davide Eneggi Davide Iazzi Peretti Luca Manfredi Luca Berthei Rubertelli Rupe Cicqua A voi ha scelto un applauso Rupe avevo 7 anni quando eravamo nel campo in Ferina ed il 6 giugno del 1981 ricordo il popolo che siamo trovati che ci portò l'Inter con Capitano Ferri che poi dò il Nazionale ricordo Giorgio Tincari che presentava la partita e la squadra e ricordo Ruberti Enrico con i pantalazzini che accendavano le scarpe aveva 6 anni erano tempi curiosi quindi grazie a te la parola Michi bella parola ma solo un attimo perché qui abbiamo il regalino davanti a tutti e lo devi indossare pure lo devi indossare dicono e facciamo una canzone è già aperto Tomo Tomo da chi vuoi tutto in me e mostrarlo ah no Pietro chiedo scusa eh agli interisti e agli altri tiposi non me lo aspettavo grazie che ogni giorno sia come una pesca miracolosa che bello pescare sospeso su di una soffice nuvola rosa io come un gentiluomo e tu come mi sposo mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto un po' c'è aria di volevo invece rifarmi ad anni indietro vedo che ci sono tante persone per favore silenzio tante persone che ho rivisto che ho rivisto oggi con piacere ecco allora dato che tu sei negli 80 io ho superato abbondantemente i 70 e io e te siamo nati a 50 metri l'uno dall'altro in quella località che si chiamava Felina Est noi veniamo da Cavicchiolo e da quelle parti quindi sostanzialmente siamo cresciuti quasi insieme ecco dire che Bigio per favore ha delle doti di simpatia di senso dell'umor furbizia arguzia sono tutte tutte doti che a Bigio non mancano però sono tutte doti che gli provengono dai genitori perché voi sapete che erano i suoi genitori Marino e la Gea Marino non parlava mai la Gea non tasiva mai ecco ci compensavano in quel modo lì Marino che faceva lo scarpolino faceva e la Gea faceva la casalinda loro erano proprio lì sulla strada a Cavicchiolo e dato che a quei momenti là non c'era ancora internet però se uno voleva sapere tutto di Felina di tutte le cose la Gea lo sapeva perché allora non c'erano le macchine si andava al casello tutti i giorni col carriolino e si passava da Cavicchiolo e da casa tua quindi era un modo per diciamo per confidarsi l'ha fatta la vacca quella la si è sposata quella la c'ha avuto un figlio la cunea la che è morta tutte queste cose qui ecco tutte queste cose poi venivano tramandate e la Gea sapeva tutto quando volevi sapere qualcosa passavi dalla Gea oppure Marino era altrettanto Marino parlava poco però sempre col sigaro in bocca però raccoglieva tutto quanto quindi praticamente la casa di Bigio era un po' la casa di informazione era l'internet a quel tempo là era un pochino l'ombelico del mondo la Canova perché la località era la Canova è vero o no? ecco una cosa che ho sempre invidiato a Bigio era il fatto che lui era di fronte di fronte a quella pista da sci che era chiamato il Piombino non so se l'avete presente Monte Castello Monte Castello praticamente si andava a piedi con gli sci fino in cima poi c'era una corsia allora non usava lo slalom non c'era nello speciale nel gigante non c'era niente si andava dritto si andava e di in cima si partiva dritto fino in fondo fino in fondo poi come si arrivava in fondo si spronava la gamba per fermare per fermare lì ci si fermava tutti quanti in fondo chi ci riusciva so che una volta ero lì a vedere appunto chi scendeva perché c'erano dei temerari e Marino quando ho visto scendere uno dice questo è secondo me e non andiamo a tirare su il Gatarone il Gatarone è una località che lì di sotto da dove abitava Bigio questo qui questo sciatore è seso non è riuscito a fermarsi è superato la strada e poi è andato a cadere e a cadere giù di sotto ecco quindi Bigio era in una posizione privilegiata perché vedeva queste gare queste gare di sci poi poi Bigio si divertiva anche perché il campo era di una certa signora Mira di una certa signora Mira che non voleva che nessuno andasse a sciare nel suo campo quindi alla sera andava su si portava dei sacchi di segatura per andare a mettere la segatura sulla pista in modo che nessuno ci sciasse e Bigio si divertiva perché poi al mattino presto c'era qualcun altro che andava invece con le pale a coprire la segatura della pista per poter sciare il giorno dopo quindi questa era una posizione che Bigio aveva di privilegio perché riusciva a vedere tutte queste performance del paese ed è una cosa che gli ho sempre sempre invidiato grazie Mimmo già che quando ha propito un minuto per raccontarmi un episodio che Mimmo non si ricorda o meglio non vuole ricordarsi glielo dico avevo 14 anni lì davanti abitavo davanti al Monte Castello e venivano i giudiziatori allora io ho detto io vado a sciare dopo ho preso una batteria da Carpinetti in prestito dopo l'ho presa l'ho comprata 10.000 lire alla domenica mattina veniva a fare le prove se ti ricordi Mimmo non ti ricordi mi ricordo e c'era anche Moreno lo saluto qua presente il nostro musico Moreno hanno fatto qualche prova ecco Moreno confermi hanno fatto loro sono suonatori veramente mi hanno fatto capire dopo la seconda prima prova chi era meglio che andasse a sciare ho mollato ho mollato la musica però mi piace molto ti sei buttato lo sport non mi ricordate grazie Mimmo ti sei buttato lo sport un applauso ancora per Bigio grazie Mimmo grazie a voi altri ultimo flash poi chiudiamo abbiamo anche due personaggi ferinesi in sala il team Dallari con Montecchi Eugenio Dallari li voglio qua almeno uno dei due e l'altro è Paoli Ale perché abbiamo Felina c'è il calcio siamo a campione del montagna quindi Eugenio vieni qua Eugenio Dallari che è il presidente del team Dallari Motoresing ecco due parole spiega cosa fate la vostra attività che bellissima il team Motoresing è di Felina come sapete tutti le attività si basano su moto auto biciclette quindi facciamo gare di macchine gare di moto gare di enduro e gare di bici abbiamo tutti i nostri piloti Montecchi vieni qua dove sei? no no parli di te adesso la tua mansione nel gruppo di Eugenio la mia mansione io faccio il navigatore non è altro che dare le curve dretilinei stare attenti a quello che deve fare ma il merito è suo insomma io sono il secondo piano bravo ti faccio una domanda perché a un navigatore devo fargliela non c'è mica d'acqua cosa andavi ah ecco no l'hai detto perché io sono nati in materia grazie Paoli realisti in Elba vieni da quant'è che corri ah io poco ho fatto qualche qualche garettina tra quattro gare da qualche anno molto impegnativa ci vuole un po' parecchio tempo disponibile e bello il tuo sponsor chi è? è sponsor Bigio sapevo che hai fatto bene dimmelo grazie grazie quanto mi quanto mi costa ragazzi mi lascio andare che complimenti un applauso ragazzi è giusto conoscere questi ragazzi di pelina che la regione in serie B è stato detto dai allora il concorso è molto semplice io vi porterò un biglietto con scritto caro Bigio ti scrivo voi dovete mettere un pensiero per Bigio ognuno di voi non esistono le coppie in questo gioco io ho fatto 180 biglietti spero che bastino ognuno di voi deve mettere un pensiero per Bigio il più bello che decido ovviamente io no il più bello biglietto più bello biglietto biglietto ce ne ho visto biglietti più belli senza offesa no vabbè lo stesso praticamente io deciderò chi sarà il più bello 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 dedicato a Bigio lui ovviamente si porterà a casa tutti i 180 tanti biglietti per la sua felicità quindi secondo me avrei un bel ricordo perché comunque tutti ti dedicheranno un pensiero il più bello dicevo vincerà un premio che è sorpresa che l'ho messo da una qualche parte che ho deciso ovviamente sempre io Bigio ha detto che lui è nato così nel 43 dice che era un bel uomo e veniva veniva dal mare parlava un'altra lingua però sapeva amare e quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato non era più dolce prima di essere ammazzato così lei restò sola nella stanza la stanza sul porto con l'unico vestito ogni giorno più corto e benché non sapesse il nome e neppure il paese l'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese compivo a 16 anni quel giorno la mia mamma le strofe di taverna le canto a nina nana e stringendomi al petto che sapeva sapeva di mare giocava a farla donna con bigio da fasciare allora vorrei sapere quanti di voi possono dire di avere compiuto gli anni con 186 persone invitate nessuno io mi sono chiesta il perché e sapete perché perché il suo nome è Braglia Giuseppe ma poi lo chiama Bigio gli amici al bar delle sirene ed anche giudaschi tanti anni è mica finito è mica finito tanti anni e non sentirli ancora va con gli amici al bar lui gioca a scopa e a ramino ma non vuol ma non vuol perdermi il suo nome è Braglia Giuseppe ma poi lo chiama Bigio gli amici al bar delle sirene ed anche giudaschi il calcio è ancora la sua passione lui segue ogni partita però se tu lo vuoi vedere è in tele tricolore il suo nome è Braglia Giuseppe ma poi lo chiama Bigio gli amici al bar delle sirene ed anche giudaschi grazie maestro grazie 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 grazie